Facoltà di parlare l'Onorevole Cassese. Ministra, la ringrazio per il suo intervento. Innanzitutto permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine ai medici e a tutti gli operatori sanitari che da settimane si stanno sacrificando per il bene della nostra collettività, battendosi corpo e corpo contro questo virus che ha paralizzato il mondo intero. A loro, se mi consentite, vorrei aggiungere coloro che stanno garantendo gli approvvigionamenti in quella che abbiamo definito un'emergenza di guerra. Lei, Ministra, tante volte ha riferito di aver conosciuto i sacrifici della terra. Anche io conosco i sacrifici del mondo agricolo perché vengo da quel mondo e mi sento in dovere di essere grato al lavoro che stanno facendo per tutti noi le aziende agricole, gli operai agricoli, le aziende di trasformazione con i loro dipendenti, i trasportatori e tutta la filiera, anche della vendita, che superando ogni umano timore non hanno cessato un solo giorno di sacrificarsi esponendosi a molti rischi. Tutti loro garantendo ogni giorno il cibo sulle nostre tavole. Badate bene, svolgendo così anche un ruolo cruciale, quello della stabilità sociale. Che cosa sarebbe accaduto se avessimo trovato gli scaffali dei supermercati privi dei beni primari? Che cosa accadrebbe se domani non trovassimo frutta e verdura? Se non trovassimo quei prodotti che siamo abituati a portare sulle nostre tavole? E allora diamo a questo comparto quell'attenzione che merita. Questo comparto necessita di interventi di sostegno adeguati ed urgenti, anzi urgentissimi. Come lei sa, Ministra, il Movimento 5 Stelle, gruppo parlamentare di cui faccio parte, si è molto impegnato affinché i provvedimenti in via di approvazione contenessero misure significative a sostegno della filiera. Tra queste, per ragioni di tempo, ne posso ricordare solo alcune di quelle che abbiamo fortemente voluto, presentando emendamenti anche al Senato e che finalmente sono in procinto di essere approvate. L'anticipo dei pagamenti a GEA e l'estensione anche alle imprese agricole della possibilità di avere accesso al fondo di garanzia. Mai come adesso, la liquidità per queste imprese è fondamentale. Non lo dimentichiamo. In merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, abbiamo voluto con forza che venisse introdotta la semplificazione del sistema delle visite mediche, che avranno valità annuale e non più per singoli contratti. Ci siamo battuti per facilitare l'elargizione di fondi statali non superiori a 5.000 euro legati al possesso di terreni agricoli, riducendo la documentazione che le aziende devono presentare. Abbiamo inoltre caldeggiato convintamente la misura che prevede i prodotti agricoli e alimentari a indicazione di origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere ora sottoposti a pegno rotativo, creando così nuova liquidità alle imprese agricole grazie al valore dei propri prodotti, come già previsto peraltro da una proposta di legge di un mio collega del gruppo. Ministra, le misure che abbiamo messo in campo sono molte e sono importanti. È fondamentale che in sede di approvazione vengano mantenute, tutte, ma come lei sa non sono sufficienti. Già nei prossimi provvedimenti, infatti, dobbiamo ad esempio prevedere misure specifiche per la filiera dei florovivaisti, così come per la filiera lattiero-casearia, entrambe gravemente colpite dalla crisi in atto. Bisogna anche rivedere alcuni interventi fatti che escludono dai benefici alcune categorie, come nel caso dei pescatori delle acque interne. C'è poi da mettere in campo un'azione strategica di fondo per rispondere in modo adeguato al problema di reperimento di mano d'opera. Dovremmo confrontarci di più su come coniugare la necessità di un operaio di trovare lavoro e la necessità di un'azienda di avvalersi di un collaboratore, ovvero dobbiamo unire la domanda e l'offerta, magari con una piattaforma nazionale, perfezionando qualcosa già esistente. Va inoltre emesso a punto uno strumento flessibile per consentire alle aziende di assumere mano d'opera in base alle esigenze dei ritmi peculiari imposti dall'agricoltura. Insomma, c'è moltissimo da fare e siamo solo all'inizio. Voglio aggiungere un'ultima cosa, ma non certo per importanza, che riguarda la ripartenza. Ebbene, la ripartenza dovrà essere capace di fare tesoro di tutti i limiti e le criticità che questa drammatica emergenza ha messo in luce del nostro comparto per superarli. Un esempio. A fronte della rapida contrazione della domanda di latte fresco, che ha prodotto un eccesso dell'offerta, mettendo in ginocchio i nostri allevatori, se accanto alle misure che si stanno mettendo in campo in questo momento emergenziale, come gli incentivi all'ammasso, l'acquisto pubblico o di prodotti per gli indigenti, quanto sarebbe stato utile poter contare in Italia su strutture idonee alla polverizzazione o su impianti in cui produrre latte per neonati da consegnare alle famiglie in difficoltà economiche. Insomma, facciamo in modo di tradurre questo dramma anche in opportunità per il futuro. Facciamo in modo che la ripartenza porti il segno di una volontà forte per superare i limiti che segnano questo settore primario, apportando i cambiamenti innovativi necessari. Questo è il momento dell'unità e non delle polemiche politiche. Concludo. Ministro, tutti auspichiamo che questo riavvio avvenga prima possibile. Ma lo voglio sottolineare. Deve essere programmato nei tempi e attraverso le indicazioni che solo la ricerca medica e la scienza in questo momento sanno offrirci per non correre il rischio di sacrificare ulteriormente il futuro del nostro Paese. Grazie.